Ciao a tutti, come vedi ho appena finito di allenarmi, rigorosamente a casa, anche se il fiatone ancora rimane che il prof si fa sudare lo stesso nonostante siamo a casa. Tra l'altro saluto, ciao prof, non ti offende, come vedi c'è anche dei lavori da fare, da riverniciare le persiane, la mia normalità è stare dentro un campo, avere contatti fisici, contrasti, far correre la palla soprattutto, però la normalità adesso non c'è più, speriamo torni presto, ma sono sicuro che se tutti facciamo quello che ci è stato detto sarà presto solo un brutto ricordo e potremo tornare a fare quello che la domenica ci piace fare di più al mondo, vedo l'ora di segnare, esultare e abbracciare tutti i miei compagni, per ora li abbraccio virtualmente e un saluto a tutti quanti, ricordate, io resto a casa.